Gela vuole vivere, hashtag Matteo Cambiaverso e per Franco Bollo la dicitura salute Gela lavoro. Sono le cartoline preparate dai sindacati confederali di Cigel Cislewil da indirizzare al Premier Matteo Renzi, in merito alla vertenza Eni-Gela. Oltre ai presidi, gli incontri, i tavoli tecnici, le riunioni, adesso al fine di attirare l'attenzione del Presidente e del Consiglio dei Ministri, si pensa anche all'invio di ben 100.000 cartoline. Ogni giolese potrà esprimere il proprio pensiero. Noi dobbiamo arrivare a Renzi, dato che siamo arrivati soltanto con i presidi, dato che Renzi preferisce andare in Africa e passando dalla Sicilia non si ferma a Gela, noi lo vogliamo a Gela oppure un appuntamento a Roma e noi scriveremo a Renzi che Gela vuole vivere e non morire, con la salute e il lavoro, ciò che tra l'altro è scritto nella cartolina. Queste cartoline verranno indirizzate, le raccoglieremo noi e verranno indirizzate al Premier per dire il disagio che la città di Gela sta vivendo. Lui è uno di quelli che dice che bisogna far cambiare verso a quest'Italia che incominci da Gela. La crisi occupazionale che ha investito Gela non ha precedenti e tutti soffrono. Cosa deve fare il cittadino? Noi faremo un'operazione di questo tipo, faremo dei cazzebo, non solo a Gela per fare questa raccolta di cartoline, per poter esprimere un pensiero, un giudizio rispetto all'avvertenza che abbiamo in atto. Non daremo le cartoline solo ai cittadini gelesi ma anche a tutto il comprensorio. Andremo a Nescemi, a Mazzarino perché vogliamo lanciare un messaggio chiaro e vogliamo utilizzare la stessa comunicazione che Renzi ha fatto nelle primarie PD del 2013 dove diceva Italia cambia verso. Noi diciamo a Matteo Renzi, Matteo Renzi cambia verso nei confronti di Gela.